mamma mia mamma mia monomale non c'è arrivato un chic che sono fatte già buo ma come si è fatto superare a questo cretino mamma mia come mi aiuta pure l'anno scorso ho fatto la stessa che cazzo la fortuna che ho avuto che fortuna che ho avuto mi ricordo un anno l'ho fatto una partita non c'è la madomba riccardo santissimo riccardo me riccardo me che fa corretto correttissimo è fatto parano col l'ho fatto di soldo e la madomba pure davet ha perso ce l'ho non ha scavato abbastanza non ho capito non c'è una porta c'è un attirato proprio la centrale ma che figlia è attirato mamma qui stanno passando al portiere Peccato Ho fatto prendere le regole E che dite il genere? Stava toccato! Ma si! Perché poi c'è una nuova nadà? Ma secondo me adesso Vedi la simulazione proprio Non ha detto, non ha detto un sgambetto D'Ambrosio Ma non ha detto, questo è il regolo Mannaggia la mamma mia Mamma mia, mamma mia C'è il tuo che hanno manato poco fa Dica buono il generale forse O va bene Ma Dica buono Ma io non lo so No, noi avremmo la mandata Quante le camere tassi E allora tassi Questa era la mia rigore Questa era la mia rigore L'Ambrosio l'aveva fatto Tenete ragione guagnone Ma come cazzo vanno a passare proprio ciò Bravo C'è sottanta gente Nooo 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 Secondo me ogni tanto Fa vedere i spettatori Così Bravissimo Samir Samir Bravissimo Bravissimo Abbiamo fatto un gioco psicologico quasi a Samoa Mariucci Mariucci ha fatto l'assist Ma fa un rete Ma vaffanculo Mariucci Ma vaffanculo Mariucci Siamo fatto un rete E' importante che non hanno detto E' importante che non hanno detto Tengo uno brutto presentemente A posto Leggiamola E' questa partita che vengono tutto quanto Ma quando c'è così Toccato E mi tocco Ma quando c'è così Ma quando c'è così Questa sera con bel otto poi BAM Stasera pure non si vede Non si vede Uyoki Brozovic C'è fatto caso Hai visto? Ma non lo sa mai dici il generale Ma non lo sa mai dici 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 C'è un problema Ma non è un problema Ma non lo sa mai dici E' un bagno rinato No Non si vede E' poterше Sento Beh 3 contra 3 5 contro 3 Qualc'è V겠어요 Cosa Ma il caglio Ma questo vede Dimentic touch E' taino Ma e' piensa Ma che cagli si è fatta recuperare una volta ma che cadavere lo che eravamo 5 contro 3 lo che segnali e basta cazzì cadavere in merda Riccardo Riccardo vaffanculo ma d'ombra ma Riccardo non ha fatto cosa niente Riccardo cazzà ma purgato però affanello cazzà Riccardo Riccardo come te la senti se un'opera genetica? non vi scala non mi sento niente non mi sento niente perché? mi sentono poco ma sentono poco perché? guarda quale è il tipo porca miseria ha freddo mi hai freddato e te gli ho freddato tu guarda guarda la partita come si vuole è la Roma che era all'andata c'hai fatta chiesa o no? non dè più quella grinta perché non è freddata probabilmente ma guarda ma guarda tu ma guarda tu che fallo mamma mia se c'è non si vuole è giuda ma guarda guarda mi è freddo mi è freddo mi è freddo non mi è freddo mi è freddo mi è freddo mi è freddo E' troppo forte Ma lo sei distato pure prima Ma era a mezz'altezza l'altezza Era veramente potente Non pizzo l'altezza Quando il pallone arrivi con la maniera Poi lanciare come vuoi Guarda su, guarda su Perché? Se ne è passato il gioco magari E' atterrato pure in bocca No, se ne è passata la pallone di pota Mamma mamma Sono passati 5 minuti di recupero E dopo 5 minuti di recupero Oggi manda le squadre degli scuogliatori Un punto a testa che non serve neanche Nella Roma né all'Inter che hanno regalato Una grandissima partita provando a vincerla Fino alla fine 8-2 per quale Con cuore, impegno, tecnica e talento Ma non sono riusciti a superarsi E alla fine è 2-2 allo stadio olippico Uomo partita scala Nicolo Zaniolo Nicolo Zaniolo e Super Sport Un eserata Di nuovo Sc colossel di業 Ahiacomo E adesso E gioco A quanto le persone Sta sono riusciti a aper ministry